e buongiorno oggi la giornata è stupenda adesso andiamo a fare colazione che buona questa qua no 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 non è dolcissima grazie buonissima grazie a tutti 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 la strada è tutta sterrata i baletti rossi la pilli è tutta lava qua tutta lava qua tutta lava ah no di qua giù non c'è da perdersi seguire i paletti rossi non andare a cazzo non 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 cazzo questo è tutto basalto questo è tutto basalto non cazzo 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 stivali Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non quello famoso, ma quello meno famoso. Oggi il tempo ci sta graziando, fortunatamente. Uno, due, tre. No, 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 due, tre. Ci stava un'altra sosta con questo posto. Bello. No, due, tre. No, due, tre. No, due, tre. Guardate. No, due, tre.